Allora ragazzi, mi ha chiesto di giocare ad Archeco, vediamo un po' di che si tratta. Allora, vediamo un po'. Movi con joystick in una prossima stanza. E poi lascia il joystick per spagare ai nemici. Giri intorno ai giustacoli. Ma io non sto spagando perché sta spagando a casaccio. Cos'è questa cosa qua? Seleziona una nuova abilità. Giri intorno agli ostacoli e uccidi i nemici. E noi. Ma, 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 ma. e' l'hova aqua aqua no non ecco se rinascita nuovo record fine della partita ok ragazzi ho giocato a questo gioco che mi avete consigliato e niente ci sentiamo al prossimo gioco ciao ciao